Taranto è ormai terra di nessuno, il nulla cosmico di 4 anni e mezzo di amministrazione Melucci-Musillo, dico anche Musillo perché ha amministrato per 4 anni e mezzo con l'ex sindaco e ora con la gestione commissariale nulla è cambiato. Mi trovo in via General Messina e qui assistiamo a una situazione che registriamo in ogni punto della città, le ditte vengono e seguono lavori per conto di utenze private e vedete sfregiano il manto stradale, qui credo che sia stata installata la fibra, guardate cosa succede, manto stradale completamente sprofondato perché è stato messo così alla bella e meglio un po' di asfalto, peraltro non è stato neanche livellato, parificato, una striscetta di asfalto così alla buona e tanto chi se ne frega che poi si viene a creare uno sprofondamento, fra poco avremo una voragine qui sotto, guardate con la mia scarpa vi sto facendo vedere proprio il dislivello, come sprofonda la strada e poi così una linguetta di asfalto neanche messa, ripeto non è neanche così livellata, poi si attraversa lo spartitraffico e qui addirittura non ci si degna neanche di mettere l'asfalto, tanto ormai non controlla nessuno. Purtroppo ci sono rischi gravissimi per pedoni ed automobilisti, immaginate la persona, soprattutto l'anziano che rischia di cadere a causa di questi dislivelli, di questi sprofondamenti, ma pensate anche per esempio a una moto, cosa può succedere? Io mi domando, gli uffici tecnici, i lavori pubblici, il patrimonio, dove siano? Per quale motivo non intervengano? Non è possibile che quest'area, questo manto stradale che appartiene al comune di Taranto, appartiene al patrimonio comunale, debba essere così deturpato senza che nessuno faccia alcunché. Ripeto, noi abbiamo avuto un'amministrazione comunale completamente assente perché un sindaco che cosa fa? Chiama immediatamente l'assessore ai lavori pubblici, chiama l'assessore al patrimonio e dice signori dovete subito intervenire e in modo così rapido gli uffici tecnici devono intervenire presso le ditte perché ripeto non si possono fare lavori per i quali c'è un'autorizzazione e poi queste ditte così si sentono completamente sollevate da ogni tipo di responsabilità perché tanto nessuno le controlla, nessuno le sanziona, nessuno dice loro nulla e quindi ripeto ognuno fa i comodacci propri. Questa è Taranto, ecco perché ho detto proprio all'inizio è una terra di nessuno, con me la musica cambia, ci sarà una rivoluzione negli uffici tecnici, dirigenti, funzionari devono girare, girare, girare per la città e pretenderò delle relazioni, dei report precisi perché io da sindaco quando cammino e vedo una schifezza del genere non solo agisco nei confronti della ditta come ente comune, ma anche gli uffici tecnici mi devono dare spiegazioni perché non è possibile che qui avvengano le schifezze e poi non ci sia mai un padre rispetto a queste schifezze, bisogna inchiodare le persone alle proprie responsabilità. Ripeto, con gli uffici tecnici faremo un certo discorso molto garbato, molto preciso, però la macchina amministrativa a livello di uffici tecnici funziona molto ma molto male. Quindi signori degli uffici tecnici che dire io voglio collaborare con voi però la musica deve cambiare, o la musica cambia o la faccio cambiare io.